Sì, sicuramente un vantaggio per tutti. Vediamo cosa accadrà da qui in futuro, però sicuramente per le squadre italiane è una cosa positiva. Per il calcio italiano, per i club di livello è una notizia molto importante. Peraltro noi abbiamo pagato pegno per molti anni sullo spareggio, per i play-off. Nella gran parte delle occasioni, purtroppo, le nostre squadre, come è accaduto quest'anno per la Roma, non sono riuscite a superare il preliminare. Un preliminare collegato a un play-off perduto determina una programmazione diversa a livello societario. Più che altro è difficile anche programmare una stagione se non si ha certezza di qual è la competizione internazionale di riferimento. Quindi a partire dal 2018-2019, con i quattro posti assicurati, di fatto guadagniamo un posto e mezzo, perché oggi ne abbiamo due certi e un terzo che spesso abbiamo perduto per strada.